tre cause perché la macchina può non partirti primo, la batteria come fai ad accorgertene? sali in macchina, inserisci il quadro quindi inserisci la chiave nel blocchettino fai l'avviamento, questa è muta o giri il quadro senti il motore che gira piano molto lentamente quindi questo qui è un problema di batteria attacca i cavi, cambia la batteria vedrai che la macchina parte l'altra cosa, se la macchina comunque l'avviamento è buono, il motore gira bene le luci non sono basse quindi la batteria è sana e la macchina non ti parte controlla se dallo scarico vedi del fumo nel motore diesel vedi del fumo nero nel motore benzina senti odore proprio di benzina dalla marmita vuol dire che l'impianto di alimentazione funziona ma non gli sta arrivando la corrente quindi hai un problema di corrente ma non di batteria, potresti avere un problema di corrente sulle candele o sulle candelette che queste non fanno scoppiare la benzina, il combustibile quindi benzina o gasolio e quindi automaticamente la macchina non parte o viceversa, se non senti odore di benzina dalla marmita dopo che hai fatto due o tre avviamenti o non vedi del fumo nero vuol dire che non gli sta arrivando l'alimentazione nel modo corretto agli iniettori quindi potresti aver finito il gasolio o la benzina potrebbe essersi bloccata la pompa all'interno del serbatoio o semplicemente non si stanno aprendo gli iniettori quindi controlla iniettori, batteria e corrente per vedere se la tua macchina poi parte in modo regolare solitamente con uno di questi tre il problema lo risolvi ciao da Monale Sabatino, Broni